Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e in questo video vi voglio parlare più o meno dei glitch funzionanti. Allora ragazzi questo lo vedete da soli, stiamo cazzeggiando nella base operativa guidando, quindi capite da soli che il glitch della base operativa, guidare nella base operativa funziona, quello di duplicare 7 auto alla volta. Allora per quanto riguarda i glitch del give a card to friend, diciamo che io ho visto un glitch però l'ho provato ma sinceramente a me non riesce, continuerò a provare ovviamente e a vedere se riuscirò a fare sto cazzo di glitch, però non riesce. Allora i glitch funzionanti ragazzi li lascerò in descrizione di questo video, tutti i glitch funzionanti anche se ricaricherò anche questo qui della base operativa. Allora il glitch dei magazzini non funziona più ragazzi, non ci lascia uscire più con la macchina dal magazzino, quindi automaticamente non ci permette di uscire fuori, di poter fare le duplicazioni e tutto il resto. Quello che ho fatto stamattina funziona benissimo, questo anche funziona benissimo, il glitch per mettere le auto, le bici, quello che cazzo volete nella base operativa, non le auto scusate, gli aerei, i veicoli speciali nella base operativa e tutto il resto. Questi glitch qui funzionano tutti ragazzi, sono stato diciamo quasi una giornata a testare tutti i glitch funzionanti e quelli non funzionanti e quindi nulla. Allora per quanto riguarda chi mi chiede glitch da soli, voi pensate che se ci fosse un glitch da solo io non lo porterei sul canale? Vi sbagliate ragazzi? Io lo porterei sul canale, quindi è inutile che mi chiedete fai un glitch che se può fare da soli, poi fai, fai, che vuol dire fai, fai un vordino cazzo regà, fai. E poi come ho già detto io lo portavo se il glitch c'era o meglio un glitch c'era ragazzi, cioè quello delle BMX, quello delle BMX che sarebbe il glitch del treno, vi mettete lì, il treno vi porta via e cazzi e mazi insomma. Io ve lo posso pure portare sul canale, però io lo trovo un glitch squallido e inutile, solamente per fottere visualizzazioni e tempo alle persone, perché per quanto mi riguarda mettere BMX dentro la base operativa per poi poter fare quel glitch e farlo da soli, Per mettere le BMX dentro la base operativa ragazzi, necessitate di un amico, quindi a quel punto se voi avete un amico che vi dà una mano a mettere 7 BMX dentro la base operativa, a sto punto prendete l'amico e gli dite, senti invece di mettere il BMX del merda dentro la base operativa, duplico le auto. Ragazzi, vi faccio vedere la data in cui stavo girando e cazzeggiando, è la data di oggi, lo potete vedere, giusto per farvi vedere che i glitch funzionano, almeno quelli che ho portato ultimamente. Per tutto il resto dei glitch è inutile che continuate a scrivermi pacciato, pacciato. Allora ragazzi, ve lamentate se le persone non scrivono pacciato nei video, perché perdete tempo. Se lo scrivo pacciato, non lo leggete e continuate a fare domande del cazzo. Ma a me mi dovete dire che cazzo volete? Che volete? Cioè, non si capisce quello che volete, perché io lo scrivo pacciato e manco lo leggete. E continuate a fare la domandina del cazzo, pacciato, pacciato. Sì, è pacciato, c'è scritto nel titolo. È normale che sto cazzo di glitch è pacciato, no? Se no non ce lo scrivevo e ce l'ho scritto per divertimento, pacciato. E poi un'altra cosa ragazzi, per quanto riguarda il blocco, c'è una guida sul canale. Poi se voi volete fare come cazzo vi pare, fate come cazzo voi fare, però poi non ve lamentate che il blocco non se ne va, che il blocco fa questo, che il blocco fa quello. Volete duplicare auto con le targhe clone? Fatelo! Io vi dico di non farlo, ma no perché so io MaxiMil che vi ordino di non farlo, no? Perché se duplicate auto con le targhe clone, ve la piate in del culo, regà. Quindi io mo ve l'ho detto che cose come stanno. Detto questo, ve lascio qui sotto in descrizione i link del video, di tutti i video funzionanti. Un saluto a tutti, al prossimo video.